Metteranno da parte giacchetta nera e fischietto per calarsi nella parte di chi la partita non deve dirigerla ma giocarla. Torna ad Arezzo la seconda edizione della Coppa dei Campioni promossa dall'AIA, l'associazione italiana arbitri. Sono circa 200 i partecipanti provenienti da tutta Italia che si sfideranno nel torneo di calcio a 5 dedicato alle sezioni arbitrali. Le gare si svolgeranno da venerdì 20 a domenica 22 giugno e alla manifestazione sportiva prenderà parte anche la formazione retina che nel girone A dovrà affrontare Trieste, Milano e Torino. Sono soddisfatto, speriamo di esserlo anche il giorno 22 alla fine del torneo, per ora le cose stanno andando veramente come devono andare. La partecipazione è totale da parte dell'AIA, in primis al nostro presidente che ci ha dato questo consenso di fare questa Coppa dei Campioni, quindi sono contento. Un'altra importante occasione di promozione per la città dal punto di vista sportivo arriva ad Arezzo il campionato nazionale dell'AIA in un periodo particolare in concomitanza con la giostra del Saracino. Sì, la seconda edizione del campionato dell'AIA dell'Associazione Italiana Arbitri, direi arbitri di tutta Italia Unitevi, nel senso che ad Arezzo in quei giorni ci saranno 12 sezioni arbitrali del nostro paese, da Milano a Caltanissetta, quindi un'ulteriore importante occasione di promozione turistica per la nostra città e come dicevi tu giustamente in un periodo importante, durante la giostra, quindi saranno poi tutti presenti alla manifestazione in Piazza Grande il 21 sera, quindi direi un ulteriore importante connubio tra giostra, sport e turismo.